Uomo del parcheggio, misterioso e labile Benvenuti in questa merda di live! Ragazzi, ieri c'è stato l'addio al celibato Mi è stato organizzato da Monitor e dal Mase C'erano una ventina, venticinque persone Tra l'altro un plauso alle persone che hanno detto sì E che hanno dato buca all'ultimo Spesso il giorno stesso Dagli ragazzi Nanni era al concerto Aveva preso i biglietti un mese fa Ragazzi Il concerto del Pearl Jam Il concerto l'ha visto così Comunque, a parte questo È stata una bellissima festa Mi hanno coccolato molto, devo dire la verità Però io mi sono ubriacato quasi subito Ecco, mi sono ubriacato Doposcena Tantissimo cibo, tantissimo alcol E diciamo che eravamo tutti un po' su di giri Ecco, c'era una jacuzzi Che è stata sporcata In me che non si dica perché tutti i copiei di Marci Con la pelle squamata Sono entrati dentro a questa jacuzzi Prendiamo due cannucce Una me la metti in culo Mi stavo riferendo a Lori in quel momento E con quell'altra cannuccia Soffi per farmi entrare il gillermo nel culo Ovviamente non è un processo che funziona Nonostante questo esperimento Poi abbia portato a delle situazioni interessanti E quindi Lori ha dovuto eseguire Chiaramente perché era la mia grande festa Allora Lori ha trovato a soffiare dentro la cannuccia Per fare una sorta di Di vasi comunicanti Ecco nel mio culo Però ho sentito delle bollicine Ho sentito delle bollicine Quindi qualcosa ha fatto Il momento secondo me Più alto non si può purtroppo raccontare È un aneddoto esilarante Ma è un aneddoto che non coinvolge il sottoscritto Quindi preferirei sorvolare alla grandissima Però ecco il mio momento secondo me top Cioè proprio il momento di ascesa È quando con un pezzo di tavolo Di questa dimensione Avete presente quei tavoli vecchi Fatti con le assi di legno no? Io stavo schitarrando con un asse di legno Megalovania Completamente nudo Vabbè quello ovviamente Mentre Kertz riattivava il pH della mia pelle Con continui bagni di gillemon Quello è stato diciamo Il mio momento più alto E poi un altro momento Quando mi è scappata la pipì Scappa la pipì E nel luogo Designato per il catering Ho fatto pipì in una bottiglia Sdrumox ha voluto fortemente Inserire il contenuto di quella bottiglia Dentro al suo gillemon E ha shottato Questo special drink Con piccola allungatina mia Masella l'ho visto Non l'ho mai visto così Masella perché Se n'è andato Molto in difficoltà Come i cameraman dei film E dei giacass Ah e mi sono scordato Un dettaglio importante Tutto quello che vi sto dicendo Più altre cose Tantissime altre cose Che non posso raccontare È avvenuto tutto davanti al catering Quindi c'erano dei camerieri Che assistevano a questo spettacolo gratis Per fortuna Per miracolo Anzi vorrei dire Golgo 13 Il barista Soprannominato Da sottoscritto così Ci seguiva tutti E quindi Miracoloso Il buon Golgone Ci ha servito E ci ha ringraziato Per averlo fatto divertire Ha detto È stato il suo miglior lavoro Il lavoro più divertente Che ha eseguito Nella sua intera carriera Vorrei anche ben vedere Se non sei turbato Da quello che succede Ridico un pazzo Perché era uno show Di giullari Dementi Notevole Golgo 13 Sei in questa bevuta Adesso Non ci metti l'MD Io ti ammazzo di botte Ovviamente scherzando Con il mio amico Golgo 13 Che si è messo a ridere E mi ha dato Altidugianti Ovviamente Tutte le persone Che hanno partecipato A questa roba Pieni d'erba Terra Nei piedi Poi sono andati Giustamente A letto Dentro le camere Di questa Questa casa Nella campagna toscana Senza una doccia Senza niente Così Proprio alla grande Tant'è che i letti A un certo punto Erano gialli Gialli Proprio Erano Una merda Una merda E io ho dormito Nella merda Proprio Insieme al buon Kertz Chiaramente E poi Monitor non ha dormito No Monitor non ha dormito Ma questa È un'altra storia Luca Ci ha avuto Delle Delle sue Dei suoi momenti Tipo C'è stato anche un corso Di botte Di Lorenzo Aiello A Mangaka Luca da quel momento Da quando ha subito Cioè ha subito È stato influenzato Lorenzo Aiello Nel tutorial Delle botte Faceva Andava dagli ospiti E faceva finta Di dargli questi cazzotti Che aveva già imparato L'arte del kickboxing Insegnatoli Da Lorenzo Aiello È stato comunque Un bel Un bel addio al celibato Dario Dario All'esame Però questo può significare Sei intelligente Sei intelligente E sei preparato Quindi vedi Questo entra in contrasto Con Invocazione violenta Vediamo E altre due carte Quindi dobbiamo ancora capire Qui abbiamo Una Diplomazia Nelle distese Desolate Quindi ci sarà Una sorta di contratto Tra te e il professore Per ottenere Per accettare un voto O per cercare di alzarlo Magari con quella domanda giusta Che ti fa alzare il voto Abbiamo l'ultima carta E poi dobbiamo tirare le somme Ahimè Wow Abbiamo trovato Una carta olografica Quindi di buon auspicio Senza dubbio Vendicatori Dell'occhio saggio Ah Ma ho capito Perché questo è un monaco genio Tra l'altro Allora Ho capito All'esame innanzitutto Ti dico che già Andrà bene Perché sei preparato Lo dice Diplomazia Delle distese Desolate Hai la consapevolezza Superiore Quindi l'esame Va bene L'invocazione violenta Che è un brutto presagio Si fonde però bene A Vendicatori dell'occhio saggio Secondo me Un tuo collega Di corso Prende un punto Due punti In più di te Perché magari Ha studiato sui tuoi appunti E quindi Ti incazzi con lui Perché nonostante Abbia studiato Sui tuoi stessi appunti Che peraltro Hai scritto te Ha preso un voto Superiore a te Quindi l'esame Andrà bene Però può darsi Che un tuo collega Ma anche un tuo amico Ti supererà nel voto E ci sarà un piccolo litigio Cerca di evitarlo Ecco secondo me What do you think About my legs Dai di una frase In toscano stretto Non abbiamo Un toscano stretto Cioè Livornese Che è una versione più Sciatta Di come sto parlando io adesso Quindi è Poi a bimbi Certo Dei fan cardo E sarebbe Dammare Dammare Dei mangi al padello Mi faccio andare col padello E ci vorrebbe un casco No io stavolta Me la collo ragazzi Perché se ci fermano Un bordello No me la No a bimbi L'altro giorno Mi hanno fermato Il booster Non ci ho voglia Mi hanno fatto un culo A paiolo Cioè se si va Si va a fiume Tranquille Ma c'è C'è in cardo Sul cemento Ci schianti Ti sfarinate Ho capito Mi sfarinate E allora io vorrei andare In mare a fare un po' di bagno Cioè abbi pazienza A vedere due culi Due puppe Abbi pazienza Stagione Ma che stagione Che è maggio Ma farà a ca Ma farà a ca Ma a te Tutto Il pisano È un po' più così Maiale Cioè veramente Guarda Sono andato a un corso Italia Ho fatto su e giù Ma un tipe dolorella Mi dice No cosa fai te qui Ero io A fare un giro A fare le vasche Il mio nipote È così il pisano No il fiorentino Non lo so proprio fare Vieni via Tu l'hai presa O tu l'hai presa La schiacciatina La schiacciata con l'ampre d'otto Bonade È Bonade No è De uno Dio Ma non so fare le differenti Il De è solo livornese Pisano è livornese Non è più una cosa livornese Non vuol dire nulla Vuol dire ed ecco Ai tempi Ed ecco Poi è diventato d'ecco E infine De Ma so tutto Parlano così Guarda Dario Tutto a posto Ma come stai Ma come stai Poco dici Ma guarda Veramente Dio can Siamo andati a mangiare Dalla franca Un po' di gnam gnam Ma guarda Lei la fa sempre buona Parla così Non so perché parlano Questo linguaggio E poi c'è Il Toscano di Gorozzi Che è sardo E il Darione Si va a letto Si va Si va a letto D'altronde Per forza Questo è Gorozzi Sardo Che spamma i miei meme Si va a letto Darione Per forza Per forza E poi c'è La mia moglie Scomparsa Quando l'ha vista L'ultima volta Ieri Ieri Nel forno Stava infornando Il pane E poi È arrivata Una affolata di vento Che ha spostato Tutta la farina E da lì Non l'ho più vista Il carabiniere Fa Gli do una pagnotta E gli do un cazzotto E ammazza il panettino Dario fai un tour In Giappone Fammi spendere tutti i soldi Aspetta Yogi Ci penso io Pronto? Salve Ciao Ciao Lucrezia Mi fai parlare con Giorgio? C'è Giorgione? Eh sì È la sua No No Le solite cose Le solite cose Poi ti aggiorno Giorgio Grande Com'è? Il re dei re Il numero No Te 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 Allora Giorgio Ne senti Il discorso è questo qua Mi chiedono Dalla chat Quando riaprirete Le frontiere Cosa? Dici che ho aspettato Troppo poco Tra la mia frase E la tua Hai ragione Mi chiedono Quando riaprirete Le frontiere Cosa? Non dipende da voi? Che cosa? Dipende da confini Giapponesi Che si devono aprirlo Ripeto Da due anni di fila Non ci posso credere Giorgio Vabbè Grazie Grazie di cuore Giorgio No No Salutamela te Ciao 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 Compriamo una villa Al vomero Porco due Terrazzo circolare Questa l'hanno presa Un camorrista Sicuro Sì È palesemente Un asa Un camorrista C'è nothing Aspetta Guarda Ingresso Salone Salone Balcone Esposizione Bagno alla giapponese Bagno alla giapponese Lo rialzi Lo rialzi No bello Quelli ci puoi mettere tipo Gabbiotto No Aspetta Panorama Panorama Aspetta Beh C'è tutta Napoli C'è il golfo Ma sai Però ce la faccio un boato di lavori Perché c'è la devi rifà tutta C'è quelli fissi Sono tutti da distruggere Sistemare E da rifà Porco due Va distrutta questa Ma poi dov'è Impossibile Guarda poi dov'è Qui sparano sicuro Oh Pog Guarda là Ecco Qui te Taffacci Qui taffacci E spari qui In questa zona I colpi partono da qui Le persone proprio Difendere la casa Con gli AK Che arrivano ai Volpesquare Napoletani A trollare Beh Vediamo se ci sono delle scale Per Kers Quanti sono Eccolo qua Guarda Kers Così almeno Ti ambienti Vedi c'è anche il tuo Sono me anche più di 9 metri Ci saranno i Kers Hall Speriamo di no Perché se no Non si può affittare No Ma che è Pog Il desk L'isoletta Odia anche 3 hop Mamma mia Instagram Ma Benevento Ma secondo me Non è a Napoli Vest Che bar per te Ti fanno il caffettino La tazza La tazza con teiera piccola Per te Le sidre Per fare le infusioni Ma secondo me Questo è tipo un airbnb Hotel Però lo pigli tutto Praticamente Sì ma lo spacci tutto Cioè lo trovi In bar D'altra parte De lo so però È anche bella La fine è normale 3 3 E poi da sopra Uno dal terrazzo Ma guarda È Avellino No Aspetta Porta di Pozzuoli Ah Ah sei su Top Pozzuoli Puoi sparare nel mare Tocca Tocca andare a quartieri spagnoli Sì ma questo è un hotel Però Perché suite Appartamento monocale Ma andiamo su Airbnb scusa Che Airbnb non c'è per 19 Airbnb c'è una vecchia napoletana Devi contattare l'host E chiedere C'è posto Oh Andiamo Il calone E' bisogno No Per forza Dai Adesso la offro io ragazzi Offro il galeone Dai Interamente Dai Adesso per forza L'inverno è al massimo Se becchi un po' Allestito Allestito Servizio catering E questo Preventivo gratis Ma poi si ruba E si va Verso la Meloria La G1 Fuochi pirotecnici Napoli Dai una barzelletta Con i carabinieri Ma in America Ci sono due carabinieri Questa la so Ci sono due carabinieri Che vanno a Beverly Hills Perché hanno sempre visto I poliziotti in moto Che vanno a giro Guardano i culi sulle spiagge E loro vogliono provare Un po' l'emozione Delle serie tv Agni 80 Allora prendono un biglietto Vanno a Beverly Hills Si trovano In spiaggia E a un certo punto Arriva un'americana Che gli fa Scusate Sorry Do you know What time is it? E il carabinieri fa Capisco il cazzo Ragazzi Partiamo con questo Comic Con Come al solito Bisogna fare Una piccola parentesi Sulle foto Perché a questo giro Siamo arrivati A dei livelli Secondo me Inconcepibili Siamo arrivati A un nuovo livello Della richiesta Della foto Perché finalmente Ho capito Qual è la frase Che mi piace di più Quando mi chiedete La foto L'ho sintetizzata E non so perché Vi ostinate Tutti A dirla È sbagliatissima Come frase Ma la dite sempre Vuoi per favore Una foto Tutto attaccato Puoi per favore Una foto Che non vuol dire Un cazzo E poi Porco due Basta Basta Chiedermi la foto Allora Se io sono al banco E tutti prima di voi Si stanno facendo una foto Che senso ha Chiedermela Non chiedetemela Prendete il telefono Mettete l'autoscatto Del cazzo Che poi bisogna capire A che cosa servono Ancora 15 secondi Di timer Sull'autoscatto Dio E poi madonna E poi vi fate la foto L'educazione Me la metto al culo Non serve a nulla Se siete in fila Da due anni Da due anni O da due ore anche L'educazione Educazione una sega Siate cafoni Oh Dario La forza Non dire nulla Nemmeno Vai Foto E si passa Ad altro Non è possibile Una cosa del genere Se siete A giro per la fiera Sono contento Se mi fate Scusa Dario Ci possiamo fare una foto Lì ha senso Ma se siete in fila Da tre ore E ci avete Tremila persone avanti Ma sbattetemi il cazzo Vai Dario Pronti Ricordatevelo Per piacere E per voi Serve a voi Più che a me Per far scorrere Più velocemente La fila Alle fiere Tirate fuori La macchina La macchina Fotografica Via Il cellulare Levate il timer E soprattutto Fate subito La foto E via E via Tanto io sono sempre pronto Sono una macchina E poi soprattutto Si arriva al momento Del pub live Ok Però vi racconto Il making of Perché chiaramente Non so se lo sapete Probabilmente qualcuno L'ha visto nel gruppo Telegram Dove hanno condiviso Clip Gif Leak Di ogni tipo C'era anche Sdrumox Sono riuscito a tenere Il segreto Fino a un certo punto Fino alla serata Qualcuno secondo me L'aveva intuito Perché siete dei furbi Però c'era Sdrumox Tra gli ospiti Eravamo 12 ospiti Mi pare Insieme Quindi È stato un casino Più che altro Perché tra queste persone C'erano Nanni Panetti Sdrumox E Mario Sturniolo Perché cito proprio Queste quattro persone Perché a un certo punto Mi arriva un messaggio Dal comicon Che mi dice Dario Dario Troviamoci Senta per favore Hall dell'hotel Esedera Per trovarci tutti Andare al teatro Non risponde nessuno 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 Non mi caga nessuno Allora inizio a chiamarli Una a uno Rispondono quasi tutti Gli ultimi quattro Sono Nanni Panetti Mario E Daniele Che erano insieme Tra l'altro Chiamo Nanni Verso il telefono Nanni Senti Alle 19 e 30 Bisogna Trovarci Nella hall Dell'hotel Io sto andando Al teatro Nanni Come Cosa vuol dire Stai andando al teatro Sto andando al teatro io No Sono le 7 Dove vai al teatro La fiera è chiusa Cioè alle 19 La fiera chiudeva Quindi immaginatevi Questo ubriau Pelato Con la testa tutta rossa Perché ha preso il sole Si è infiammata la testa Che vaga Nella fiera Vuota Mentre ci sono I pizzaioli Che Piano piano Rassettano il banchetto Della pizza Sistemano per la giornata di domani Sistemano le 6 E c'è nel mezzo Perché chi è stato al comico Lo sa Ci sono due padiglioni E una zona centrale Enorme all'aperto Questo tizio Tipo io sono leggenda Che vaga Va verso il teatro Vuoto Chiuso Con la fiera in chiusura Intorno Questa è l'immagine di Nanni Che ho avuto al telefono In quel momento Probabilmente era molto realistica Ho detto no Nanni Torniamo indietro Insieme a babbo 19 e 30 Nella hall dell'arbergo Maremma puttana Perfetto Alla torna indietro A un certo punto Contatto Il mitico Marione Che faceva da badante A Daniele E gli faccio Mario Dani Dove siete? Siamo Che ne so Me ne frega un cazzo Ok Alle 19 e 30 Nella hall dell'albergo Per favore Daniele Ma è proprio necessario Ma è proprio necessario Sì Daniele È necessario La fiera è chiusa Voi siete anche all'esterno Della fiera Nanni almeno era all'interno La fiera è chiusa Non vi fanno entrare Non potete andare Io ci voglio arrivare da solo Daniele Non è questione di orgoglio O questione che ti tratto Come un deficiente È chiuso il teatro È chiuso la fiera Non ti fanno entrare Non puoi entrare alla fiera Per favore Alla hall Dell'albergo E E Mario Faccio Mario Te che un attimino Ragioni A differenza sua Puoi dirgli che è importante Che venga alla hall Perché non ci aprono il teatro Cioè E Mario Ambasciatore Non porta pena Ma cosa cazzo vuol dire Mario Non è che ha ragione o torto Deve venire alla hall Perché sennò Non ci aprono il teatro Ah io sono qui nel mezzo Io Dei dementi Cioè io veramente Ma non si sa perché Poi mi fa Devo portare anche le medicine A Panetti Perché Panetti C'ha sempre questo naso chiuso E ha bisogno della rinazina Spray nasale di merda E non se la porta Ma è dietro E quindi Erano andati in farmacia A comprargliela Ma poi bisogna portare La medicina a Panetti Panetti è con noi Nella hall Gliela porterete nella hall Comunque l'avverto io Panetti Già sudavo Chiamo Panetti Faccio Dove sei? Sono in taxi Perfetto Senti Bisogna trovarci alle 19.30 Nella hall Dell'albergo Ci portano al teatro Quale sarà mai stata La risposta al telefono Di Simone Panetti Voglio andare al teatro Da solo Simone Io non so Perché a Milano Avete tutti il bisogno Di raggiungere Gli obiettivi Da soli È ammirevole Ci mancherebbe Lo rispetto Però Porca puttà È a Livorno È a Pisa Per nanni Va bene Però non è questo Il nostro caso Perché trovi una fiera Chiusa Trovi un teatro Chiuso Dio Cristo Non ti fanno entrare Mi sono un po' innervosito Perché non ce la facevo più Non ce la facevo più Allora io ho spiegato Questa cosa E Panetti Con la voce Briaissima Mi fa Dai Però non ti incazzare Cioè ecco Faceva il bambino Allora Faceva la vittima Ti incazzare però Io non lo sapevo Cioè io non lo sapevo Dai Non lo sapevo Ma l'hai detto Vi racconto questo aneddoto Stampammo Ai tempi del Nel Cultura Tour Tantissime magliette Perché ci conveniva Per il prezzo Più stampi Meno paghi Allora stampammo un botto Ce ne avanzarono un sacco A un certo punto Cippe Le donò Alla Caritas Passò qualche mese Cippe Andò A Tirrenia O da qualche altra parte Al mare E vide passare Un venditore ambulante Delle spiagge Con la maglia Del Nel Cultura Tour 2014 E lì capì Che aveva fatto Un grande gesto Bellissimo Monitor Con la basetta A forma d'Italia E il tridente d'acciaio Una grande azione popolare Vero forse La tua fan L'ha comprata Non mi risu Non l'ho vista Nel Cultura Tour Eh Aiuto Aiuto Mi sono bloccate le gambe Mamma Mamma Mi sono bloccate le gambe Come l'ultima volta Che mi sono cagato Sono addosso Mamma 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 Aiuto Mamma Fatto un puputo In pantalone Dare una barzelletta Per colpa Per colpa mia Anche Mi mettevate cinque minuti Scusa Dario Cortesemente Potresti gentilmente Concedermi una foto Fate una foto E basta Anche perché Paradossalmente Ora non è che ci dovete Prende E fare la foto Forza facciamola Però Più corti siete Meglio è Perché ne dobbiamo fare sempre tante Tantissime Quindi Se mi dite Dare una foto Già siamo a cavallo Pam Si parte E ne facciamo Duemila Senza problemi La maschera Non serve a nulla Io ho provato Fearcheck Mi riconoscono Perché poi Non è Cioè È veramente facile notarmi Perché sono altissimo E poi soprattutto Cammino come un canguro No Quindi Se vedi un coglione Di due metri Che ciondola E che cammina tutto storto Posso essere solo io Non c'è Cioè ho queste braccia lunghissime Con cui mi do la spinta Con questi piedoni Così Cioè Quello è Dario Cioè palesemente lui E qua Allora ti beccano la spalla Ti tocchicchiano la spalla Ti giri Sei Dario vero? Eh allora è inutile Via con la mano Tanto è uguale La sera Io Ho pensato Saggiamente Di scrivere su Telegram Sono a Catania In piazza Teatro Vi aspetto Non è stato proprio saggio Ecco Diciamo così Ero Il caos Ormai sono Vi prego ragazzi È anche contro i miei interessi Non Vi prego Non mi date mai più da bere A un certo punto Mi arrivavano delle cose in mano E io non sapevo più nemmeno chi ringraziare Perché Mi arrivavano e basta Mi arrivavano e basta A un certo punto Un tizio Mi ha portato Dal nulla Perché non so dove l'ha preso Perché non l'ha preso nel locale Dove ci eravamo fermati Ma da un'altra parte Col bicchiere di vetro è arrivato Mi ha portato un white russian Che cazzo eri Grazie Ma poi Ma poi Gli hai riportato il bicchiere Come hai fatto Come hai fatto Ma poi Perché sapeva che mi capavano A un certo punto era Io avevo due bevute in mano E uno mi porta uno shot Scusa ma Ho due bevute in mano Basta Basta Fermatevi No ma poi era Era bellissimo Era un viale Tutto all'aperto E una piazza poi Tutta piena di gente Che beveva Si divertiva Cazzeggi Battute Anche la gente che non ci conosceva Si è fermata Si è incuriosita Abbiamo fatto Amicizia Comunella È stato bellissimo E poi Non mi sono ricordato più niente Io non ricordo quasi più nulla Della serata Proprio degli sprazzi Non Mi hanno riportato Quello che ho fatto E so che ho mescolato Un cocktail col pisello E lo volevo fare Bere a Babidi Storico membro Delle nostre community Non so se ce l'ho fatta o meno A un certo punto È arrivata una ragazza Da nanni Io sono andato Da questa ragazza E le faccio No No Questo me l'ha riportato nanni Ai non so niente No Non farlo Cosa Vattene via Finché puoi Scappa Lascia perdere E lei Ok Grazie E se ne va Però non so cosa Cioè Scherzi uno dopo l'altro A tutti Senza un senso Senza un freno Poi ogni volta Che incontravo Un utente Di questa chat Che ricordo Cioè un utente storico Una persona che si abbona regolarmente Che commenta Io mi inginocchiavo Gli baciavo le mani Grazie 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 Io ero ormai al delirio Al delirio Ridevo nel mezzo Come Doflamigo Cioè era proprio Ormai andato E continuavano a arrivarmi robe A un certo punto Mi hanno fatto provare Il cane morto Che è uno shot vostro Terrificante Sembrava di bere il petrolio Cristo Poi ho preso da parte Nicola Lo dobbiamo fare Ho iniziato a parlare Ho iniziato a parlare Come il tizio del gameplay Per colpa di Kerz Quello Questo mi sa che c'è carogne Poi mi ero fissato Con questa roba Andava a diritto Con questa stronzata Ho preso Nicola De Gobis Dobbiamo fare Un gioco da tavolo Dove la gente sbora Cioè è veramente ingestibile Senza Corri Corri Jack Sparo Ho tagliato la corda Ma proprio Letteralmente Ma Holorin Quando ho visto Holorin Sembrava che avessi visto Urasawa Non sto scherzando eh Holorin 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 Ciao Holorin Ah braccio Io ho morso la testa Poveraccia Anche Holorin Veramente Senza senso Senza senso E come Come se avessi visto la Madonna Un'apparizione Holorin Reale Davanti a me Holorin Holorin Bello Holorin Ogni persona che mi diceva Un nick e lo riconoscevo Di cazzo non so La leggo Proxoul Dario io sono Proxoul Proxoul Tu Cinque giorni di tristezza E poi Corri incontro alla vita Tu Col tuo paracadute Ti getti in volo E vai Atterri nel giardino di casa Poi ti muovi sicura e fresca Come in un mattino di primavera Cascаются Casc serait Poi ti muoviolici e fresca Di cazzo Cascading O Cascading O Cascading O Cascading deliberately Cascading Aquí M Los Grazie a tutti.